Buonasera a tutti, ben ritrovati all'appuntamento con il TMW News. Dunque il Milan è sempre in testa della classifica da solo dopo la vittoria di ieri contro il Napoli e a questo punto è giusto chiedersi se davvero i rossoneri potranno lottare fino alla fine per il titolo anche se va detto che dovranno fare a meno per qualche partita di Ibrahimovic. Lo svedese si è infortunato nella partita contro i partenopei. Ivan Cardia, buonasera, le tue considerazioni. Buonasera Lorenzo, il Milan in questa classifica cortissima batte il Napoli, piazza una bella zampata, si riporta al primo posto dopo il brevissimo primo atto del Sassuolo e dà ulteriori conferme a chi pensa che la squadra di Pioli, ieri con Daniele Bonera in panchina, possa davvero competere per lo scudetto, in tal senso qualche ulteriore risposta arriverà dalle prossime partite senza Zlatan Ibrahimovic, per fortuna dei rossoneri ovviamente per un breve periodo perché comunque lo svedese è il vero fattore del diavolo, una doppietta anche al suo amico, ex compagno di squadra Gattuso, per ribadire che non si è mai troppo vecchio, o almeno che Zlatan non è mai troppo vecchio, non allarghiamo troppo il discorso. Un Milan che vince, convince, ha tanti pregi a partire da un centrocampo molto forte, da alcune alternative che comunque si stanno imponendo. Penso a Doge che come contro il Celtic anche contro il Napoli è riuscito ad entrare e a segnare, manca qualcosa, forse manca un vero Ibra, lo diranno le prossime partite, in difesa ci sono uomini un po' contati sul lungo periodo, c'è tanto da verificare, magari il mercato di gennaio può dare una mano, ma per ora il Milan è lì in testa e sta rispondendo sì ogni volta che ci chiediamo se può davvero lottare per lo scudetto. Ritroviamo adesso con piacere Furio Valcareggi, ciao Furio! Ciao Lorenzo, tutto bene dai, tutto bene. Sei in forma? Piano piano dai, piano piano si torna in forma, si torna in forma dai. E allora parliamo di calcio e ti chiedo subito, ti coinvolgo sul tema Milan, se lo ritieni effettivamente anche tu da scudetto o se invece è destinato nell'immediato futuro a perdere qualche punto anche in virtù dell'infortunio di Ibra, Imovic che dovrà saltare qualche partita. Sicuramente vedi anche la vicenda del mister di Pioli che era in ballottaggio, gli arriva Ibra, Imovic e tutti vengono confermati e tutto diventa oro. Certo, se questo è uno stiramento e manca per un mesetto, un mesetto e mezzo, Ibra è l'80% in questo Milan, c'è poco da fare, fa tutto lui, crea, fa, disfa e quindi è una gravissima perdita e allora probabilmente potrebbe incidere negativamente sul futuro immediato del Milan, c'è dubbio, c'è dubbio. E quindi in questo momento la tua favorita per lo scudetto qual è? La favorita per lo scudetto rimane la Juventus perché c'è quel signore che non riesce a far meno della partita, incredibile la forza di questo Ronaldo e poi c'è l'Inter e il Napoli con il Milan nel mezzo, ma la mia gradatoria è Juve-Inter-Napoli, Juve-Inter-Napoli. Quindi l'Inter a tuo parere col passare del tempo riuscirà a trovare una sua stabilità perché anche ieri è partita malissima, poi è riuscita a riacciuffare la partita, a vincere, però insomma in altri casi magari non è possibile. Ieri vedevo la partita dell'Inter, a un certo punto l'ultimo cambio, quello che si fa per scherzo buttando dentro una ingola, e insomma voglio dire, lì c'è una ricchezza smodata, questo Lukaku che dove va fa gol, entra Lautano che fa un bellissimo gol, si smarca, c'è solidarietà fra gli attaccati, Poi c'è Borelli che è un giocatore dal livello mondiale, uno dei migliori centrocampisti del mondo, c'è la continuazione con più potenza di Daniele De Rossi che a mio parere è stato per tre anni il miglior centrocampista al mondo. Qualcuno l'ha paragonato a Cattardelli? Questo ha più forza, ha più volume, va più orizzontale, va più dappertutto, questo poi finisce la partita e non ha una goccia di sudore, non ha una goccia di sudore, è che c'è questa mania dei cartellini gialli che li prende per protesta, ecco lì se fossi il suo procuratore, o mio carissimo amico Alessandro Beltrami, glielo ho detto anche ieri, insomma al limite, non può andare a prendere i cartellini sul protesta, se entra e fa male ok, ma per protesta no, 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 le pigliaia ce l'hanno, peccato, peccatissimo, però come calciatore, mamma mia, mamma mia, da brividi. Senti, il Napoli invece lo metti un gradino sotto rispetto alle squadre che hai citato, ancora non ha trovato quella continuità di risultati giusta per poter puntare al titolo? Il Napoli vede la sua missione dell'allenatore, che adoro, perché Gattuso è bravissimo, però ieri ha dato delle colpe a se stesso, perché con i big non sono big, e questo a lui non gli piace, la sua carriera è regale, la sua carriera è stupenda, e si dà delle colpe, no, ci sono dei problemi in quella squadra, a volte di personalità, ma hanno una qualità che è imbarazzante, quindi anche loro li metto tra i favoriti, ma assolutamente sì. La grande delusione nelle partite di ieri è stata la Fiorentina, che succede? Perché ancora non riesce a risolvere i propri problemi la squadra viola? Guarda qui c'è una malattia, è come il coronavirus, non ci si capisce niente, non ci si capisce niente, nessuno, perché prestazioni come Qamè di quella di ieri, imbarazzante, Qamè e via, va via, un mesetto, va al mare, a Marabacchi ha mandato il fratello da Verona, lo stesso Biraghi, dieci cross, ne è arrivati uno, Cercco, Pezzella, Milenkovic, ieri hanno fatto una prestazione orribile, e io non so che rimedi ci sono, perché vedi, è facile dare la colpa all'allenatore, è molto facile, la colpa è dei calciatori, non puoi avere una prestazione tipo quella di ieri, non puoi avere una prestazione tipo quella di ieri, non la puoi avere, non è troppo bassa, non rispecchia i canoni della Serie A, un giocatore di calcio non può giocare così male, e ieri ma è andata bene, è andata pure bene, perché noi proprio siamo stati, e questo c'è anche un po' la mancanza del pubblico, per me gratifica, quelli che non vanno bene e gli arbitri, perché vedi, se c'era qualche 3-4 passaggi sbagliati di fila, se c'era il rumore dello stadio, forse uno per timore, non lo so, forse avrebbe migliorato, o cercato di migliorare la prestazione, come gli arbitri, gli arbitri possono arbitrare con la sigaretta in bocca, perché quando c'è un fallo, chiama il calciatore, ma vedi che sei entrato te, lo vedi che la colpa è tua, ma cosa vuoi da me, vai via, e non manda via, non c'è il boato della gente che non sente il dialogo, e che magari può mettere ansia all'arbitro, quindi l'arbitro la può arbitrare, poi c'è il VAR, dov'è il problema, cioè fare l'arbitro oggi, è una roba che ha la portata di tutti. E quindi quali rimedi ci saranno per la Fiorentina? Non lo so, non lo so, mettere in punizione i quattro giocatori, cinque, che stanno al di sotto in maniera imbalazzante. Metterli in punizione cosa vuol dire? Toglierli, levarli, non farli giocare, c'è altra alternativa, che li fai? Che li fai? Che li fai? E mi dispiace che io faccio un programatore, fra l'altro sono in contrasto con il mio mestiere, perché io devo difenderli, però vedi, a me la voglia di venire a parlare con voi, di dire le cose, mi penalizzerebbe forse. Ma che fai? Ma che fai? Acquame, che gli dici Acquame? Stai a fare uno stop, sei cascato sul pallone, sei in serie A. Ehi, ma che ti voglio insegnare? Non è possibile, bisogna che tu vada a riflettere lontano, rifletti e e organizzati a non venire più a fare certe figure, non venire più a fare certe figure. Furio, per quanto riguarda ancora la questione Ibrahimovic, qualcuno ha sottolineato, per esaltare le qualità di questo calciatore, che sia addirittura più completo di Cristiano Ronaldo, sei d'accordo? No, Cristiano Ronaldo non lo batte nessuno, 760 gol. Cristiano Ronaldo, lascialo a perdere, un altro film, siamo a ottimi livelli, senza dubbio. Ma Cristiano, Cristiano è, credo non abbia fatti meno Ibrahimovic, no, di gol, molti meno. Certo, certo, certo. Cristiano e Messi vanno tolti dagli altri, perché danno dieci anni di continuità, diciassett'anni di continuità alle loro prestazioni, quindi in tutti i campionati, nei mondiali, negli europei, sempre una valanga di gol. Ibra, Ibra ha giocato, è un fenomeno, però si avvicina a questi, ma come, se mi sente, mi cazzotta, ma, ma, credo che non sia, sia qualche metro dietro, ecco, non un chilometro, qualche metro dietro sia. Va bene Furio, grazie per questa chiacchierata, a presto. Grazie a te Lorenzo, grazie, ciao. Bene, dobbiamo celebrare adesso anche il Sassuolo, secondo in classifica, ieri per qualche ora, prima della gara tra Napoli e Milan, è stato anche in testa, alla graduatoria, il Sassuolo che adesso si trova a preparare per una settimana intera, senza troppi assilli, la partita contro l'Inter, a differenza dei nerazzurri, che dovranno invece pensare alla Champions, anche questo, chissà che non possa incidere in qualche modo. Lorenzo Di Benedetto, a te la parola per un punto della situazione. Sì, ciao Lorenzo, buonasera a tutti, il Sassuolo sogna in grande, lo ha fatto per poche ore ieri, anche essendo da solo in testa la classifica di Serie A, dopo la vittoria a Verona 2-0, e prima del successo del Milan, che ha consentito, grazie appunto al 3-1 al Napoli, ai rossoneri, di tornare in vetta solitaria della classifica di Serie A. è un Sassuolo che però gioca bene, diverte, segna, e può veramente sognare in grande, probabilmente non per lo scudetto, perché ci sono chiaramente squadre più attrezzate, rispetto ai neroverdi, per raggiungere il tricolore, però sicuramente potrà dire la sua, in chiave europea, e chissà, forse anche in chiave Champions League. Ci sarà la super sfida, come abbiamo detto, contro l'Inter, sabato alle ore 15, e si sfideranno i due attacchi migliori del campionato, 20 gol per i neroazzurri, 20 gol anche per i neroverdi di De Zerbi, potrà essere un'occasione, per la squadra del tecnico di Brescia, per poter provare a battere anche Antonio Conte, questo perché? Perché il Sassuolo avrà tutta la settimana, per poter pensare, e preparare solo la partita contro l'Inter, di sabato alle ore 15, mentre l'Inter dovrà prima sfidare il Real Madrid, in una gara da dentro fuori, in Champions League, dove non potrà sicuramente fallire, quindi sicuramente Roberto De Zerbi, cercherà di mettere il bastone tra le ruote, anche ad Antonio Conte, cercherà di far giocare ancora, molto bene il suo Sassuolo, per poter provare a sognare ancora di più, che sia Europa League, che sia Champions League, questo ce lo dirà soltanto il campionato, però fino a questo momento, la Serie A ci ha detto, che per i vertici della classifica, c'è anche il Sassuolo. Buonasera Danilo Caravello, agente di lunga esperienza, ben ritrovato. Buonasera Lorenzo, buonasera a tutti, e grazie di avermi invitato. Conte parliamo subito della Lazio, che dopo la vittoria con il Crotone, possiamo dire che si sta abituando, ad una serie di problematiche, anche ad una situazione, che la vede in mezzo alle polemiche, perché comunque non si fa condizionare, ha saputo reagire. Sì, diciamo che la Lazio è una squadra che ha sempre dimostrato nel tempo che nelle difficoltà riesce a trovare coesione, riesce ad esaltare le qualità del gruppo, a fare quadrato e a fare risultati. Fino ad oggi, per me, la Lazio, come d'altronde l'Atalanta, affrontando anche la doppia competizione, con la Champions e gli impegni infrasettimanali, stanno facendo il loro percorso, il loro campionato. Diciamo che, nello specifico, la Lazio ha già incontrato l'Inter, ha incontrato la Juventus, insomma, ha incontrato squadre importanti, per cui, nelle prossime partite, dove ci dovrebbero essere squadre, più alla portata, potrebbe anche risalire la classifica. La rosa è adeguata, in Champions adesso la partita infrasettimanale di questa settimana, credo che possa essere decisiva, se viene portata a casa, anche per il percorso, per cui, fino adesso è un giudizio positivo, nonostante le tante polemiche, le tante problematiche legate al Covid, che quest'anno stanno coinvolgendo tante squadre, a Lazio una di queste, è un campionato abbastanza tipico, però sta tenendo botta, ecco. Senti, Immobile adesso ha messo nel mirino Piola, per la classifica cannonieri all time della Lazio, gli mancano 29 reti per raggiungerlo, che cosa ne pensi? Ce la farà? Io credo che Immobile, come Cristiano Ronaldo, se continueranno con queste medie impressionanti, realizzative che hanno fatto negli ultimi anni, nei prossimi anni, riusciranno a raggiungere i rispettivi obiettivi, Cristiano Ronaldo, quello di essere il miglior bomber di tutti i tempi, e Immobile, diciamo, forse il miglior cannoniere della Lazio. Le medie sono impressionanti, tenerle non è semplice, però al momento mi sembra che tutte e due stiano dimostrando che sono due campioni. E anche lui ha saputo reagire immediatamente a tutte le critiche, le polemiche che lo avevano coinvolto, ha reagito da grande giocatore? Sì, diciamo che è un animale da campo, nel momento in cui è nel suo territorio preferito, c'è l'area di rigore, se capitano uno o due palloni, uno lo mette dentro, e così è fatto anche a Crotone. Credo che tutti in questo mondo dovrebbero dare le risposte sul campo, cercare in questo periodo soprattutto, dove c'è tanta sofferenza, c'è tanta difficoltà in giro, evitare sterili polemiche che poi non portano a nessuna parte, di sicuro immobile, è il meno colpevole di questa situazione ed è uno che l'ha subita ed ha reagito nella maniera migliore per lui e per la Lazio. Devo fare anche un plauso alla società per come ha gestito il caso di Luiz Alberto, perché anche lì... Anche se si è aperta una lite tuttora da sanare tra Peruzzi e Lotito? Sì, così sembra, non ne sono al corrente nei dettagli, però credo che... Alimentare ulteriori polemiche, ammesso e non concesso, che comunque Luiz Alberto ha sbagliato, ma lo ha anche pubblicamente ammesso, ha chiesto scusa sia alla società che alla squadra, tenere una linea in questa fase della nostra vita, in questa fase del campionato, una linea più morbida, tra virgolette, non significa abbassare la guardia da parte della società. Credo che sia stata una gestione intelligente che poi dopo all'interno venga risolta nella maniera più giusta possibile, come giusto che sia, che debba essere per Luiz Alberto e anche per l'ultimo giovane della Rosa, perché le cose si fanno per tutti in maniera uguale, questo mi sembra giusto. Acerbi davvero insostituibile per questa Lazio? Acerbi sono anni che dimostra di essere un giocatore affidabilissimo, è un difensore che fa praticamente tutte le presenze nell'arco del campionato, se non sbaglio in ultimi anni ne ha saltata una o massimo due, tre squalifica e mai per infortunio, quindi il rendimento è sotto gli occhi di tutti, significa che è un professionista esemplare sotto tutti i punti di vista e il campo lo premia con questi risultati. Tra l'altro a breve dovrebbe anche esserci l'ufficializzazione del suo prolungamento del contratto fino al 2025, dopo che c'erano state anche alcune polemiche, sembrava che ci fosse addirittura una rottura tra le parti. Sì, sì, anche lì si sono create tante voci, tante polemiche, però da quello che mi risulta l'accordo è stato trovato, ma soltanto ufficializzato, ma comunque anche Acerbi sarà uno come Immobili che può praticamente chiudere la carriera della Lazio. La Roma è da scudetto, secondo te, per quello che ha fatto vedere fino a questo momento, per la continuità che sta avendo? Io credo che Roma-Milan e Sassuolo siano le realtà migliori che hanno espresso anche il gioco migliore fino a questo momento, in questa prima parte di campionato. E metto anche Napoli tra queste squadre. La Roma, diciamo, che non viene messa mai da nessuno, non viene nominata poco e forse questo è anche un bene, perché ti permette di tenere alta l'attenzione, la concentrazione e lontane le depressioni. È una squadra che non ha mai perso sul campo, perché la sconfitta di Verona è venuta a tavolino, quindi è una squadra che avrebbe anche un punto in più. Per cui sta esprimendo un ottimo calcio. È una squadra che dalla cintola in su presenta nomi importanti, anche alternative importanti, perché in questo momento teniamo presente che c'è l'assenza di Zagnolo, che con Mkhitaryan, Petro, Giego, Borja, Maioral, insomma, dovrebbe ritagliarsi uno spazio e per cui sarebbe avere un'alternativa di lusso, qualunque essa sia. Mi sembra una squadra solida, una squadra che gioca abbastanza a memoria, che esprime un ottimo calcio e quindi è da tenere in grande considerazione per le prime quattro posizioni. Poi, per lo Scudetto, secondo me, è nel calderone come tante altre squadre, anche perché per me quest'anno la lotta è aperta a più squadre, non perché la Juventus si sia indebolita, ma perché comunque è un anno particolare, senza pubblico, negli stadi, che ci sta abituando anche a risultati talvolta sorprendenti. E fino ad oggi le squadre che hanno cambiato meno nel mercato, che sono ripartite dall'allenatore, dagli stessi interpreti, sono quelle che si trovano, non a caso, in testa alla classifica. Vedremo allora quali saranno gli sviluppi del nostro campionato. Per adesso ti ringraziamo, buona serata e a presto. Grazie a te Lorenzo, un grande saluto, buon lavoro, che so quante difficoltà ci sono in questo momento per cercare di fare al meglio il nostro lavoro. e speriamo di vederci presto e un saluto a tutti. Bene, siamo arrivati ai saluti, siamo alla conclusione di questa edizione della TMV News, ci ritroveremo domani, non mancate ad un nuovo appuntamento della nostra trasmissione, grazie per averci seguito, buon proseguimento di serata. Grazie a tutti.